Anche se si svolgerà domani alle 9.30 il primo consiglio comunale del terzo mandato Chienni a Terra Nuova Bracciolini, sono già stati resi noti i nomi dei nuovi assessori del comune. Tre riconferme e due nuovi ingressi in giunta. Le tre riconferme riguardano Massimo Quaoschi, Luca Trabucco e Sara Grifoni. Per il primo va la carica di vice sindaco e l'assessorato al bilancio e finanze. Anche per Trabucco rimangono le stesse cariche con urbanistica, edilizia e ambiente. Mentre per Grifoni, confermata la delega all'istruzione, si aggiungono quelle alla cultura e al turismo. Le due nuove entrate che sostituiscono Mauro Di Ponte e Caterina Barbuti sono Giulia Bigiarini, a cui vanno le deleghe al sociale e pari opportunità, e Federico Tognazzi, già consigliere nella scorsa consigliatura, che prende le deleghe da assessore alle manutenzioni, politiche energetiche, mobilità e caccia e pesca. Pesanti le deleghe che invece ha deciso di tenere il sindaco Chienni, come quelle ai lavori pubblici, sanità, sicurezza e sport. La giunta che mi affiancherà durante questo mandato, ha commentato il primo cittadino, è espressione del nostro tessuto sociale e opererà per consolidare Terra Nuova come una comunità dinamica e solidale. È mia intenzione nei prossimi mesi coinvolgere i consiglieri comunali nell'esercizio di deleghe specifiche, utili a rivolgere un'adeguata attenzione a tutti gli aspetti della vita della nostra comunità.